I domini e padri, siete figli e spirito santi. Preghiera ad sumus. Siamo qui dinanzi a te, oh Spirito Santo. Sentiamo il peso delle nostre debolezze, ma siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare. Mostraci tu il cammino da seguire. Compi tu stesso quanto da noi richiedi. Sì tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni. Perché tu solo, con Dio Padre e con lo Figlio Suo, hai un nome santo e glorioso. Non permettere che sia lesa da noi la giustizia. Tu che ami l'ordine e la pace, non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia, non ci influenzino cariche o persone. Tienici stretti a te col dono della tua grazia, perché siamo una sola cosa in te e nulla discostiamo dalla verità. Fa che, riuniti nel tuo santo nome, sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme, così da far tutto in armonia con te, nell'attesa che per il fedele compimento del dovere ci siano dati in futuro i premi eterni. Amen. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, Per la vostra e la mia consolazione, questa meditazione sarà centrata tutta e solo su Dio. La teologia, cioè il discorso su Dio, non può rimanere estranea alla realtà del sinodo, come non può rimanere estranea a ogni altro momento della vita della Chiesa. Senza la teologia, la fede diventerebbe facilmente morta ripetizione. Mancherebbe dello strumento principale per la sua inculturazione. Per assolvere questo compito, la teologia ha bisogno, essa stessa, di un rinnovamento profondo. Quello di cui il popolo di Dio ha bisogno è una teologia che non parli sempre e soltanto di Dio in terza persona, con categorie mutuate spesso dal sistema filosofico in auge, incomprensibili fuori della ristretta cerchia degli iniziati. E' scritto che il verbo si è fatto carne, ma in teologia spesso il verbo si è fatto solo idea. Carlo Barth auspicava l'avvento di una teologia capace di essere predicata. Ma questo auspicio mi sembra lontano dall'essersi realizzato. San Paolo ha scritto Lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. I segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Ma dove trovare ormai una teologia che faccia leva sullo Spirito Santo più che sulle categorie della sapienza umana, per conoscere le profondità di Dio? Bisogna per questo ricorrere a materie cosiddette opzionali, la teologia spirituale o la teologia pastorale. Henri de Lubac ha scritto Il ministero della predicazione non è una volgarizzazione di un insegnamento dottrinale in forma più astratta che sarebbe ad esso anteriore e superiore. È, al contrario, l'insegnamento dottrinale stesso nella sua forma più alta. Questo era vero della prima predicazione cristiana, quella degli Apostoli, ed è vero ugualmente della predicazione di coloro che sono ad essi succeduti nella Chiesa, i padri, i dottori e i nostri pastori dell'ora presente. Finghi de Lubac Sono convinto che non c'è nessun contenuto della fede per quanto elevato che non possa essere reso comprensibile a ogni intelligenza aperta alla verità. Se c'è una cosa che possiamo imparare dai padri della Chiesa è che si può essere profondi senza essere oscuri. San Gregorio Magno dice che la Sacra Scrittura è semplice e profonda come un fiume in cui, per così dire, un agnello può camminare e un elefante può notare. La teologia dovrebbe ispirarsi a questo modello. Ognuno dovrebbe potervi trovare il pane per i suoi denti. Il semplice è il suo nutrimento, e il dotto è un cibo raffinato per il suo palato. Senza contare che spesso viene rivelato ai piccoli quello che è tenuto nascosto ai dotti e ai sapienti. Ma chiedo scusa che sto tradendo la mia promessa iniziale. non è un discorso sul rinnovamento della teologia che intendo fare in questa sede. Non avrei nessun titolo per farlo. Vorrei piuttosto mostrare come la teologia, intesa nel senso accennato, può contribuire a presentare in modo significativo il messaggio evangelico all'uomo d'oggi e dare l'infa nuova alla nostra fede e alla nostra preghiera. La nutesia più bella che la Chiesa ha il compito di far risuonare nel mondo, quella che ogni cuore umano attende di sentire, è Dio ti ama. Questa certezza deve scardinare e sostituire quella che ci portiamo dentro da sempre, Dio ti giudica. La solenne affermazione di Giovanni Dio è amore deve accompagnare con una nota di fondo ogni annuncio cristiano. Anche quando l'annuncio deve ricordare, come fa il Vangelo, le esigenze concrete e pratiche di questo amore. Quando invochiamo lo Spirito Santo, anche nella presente occasione del Sinodo, noi pensiamo in primo luogo allo Spirito come luce. Luce che illumina le situazioni, ci suggerisce le soluzioni giuste. Pensiamo meno allo Spirito Santo come amore. Invece, è questa la prima e più essenziale operazione dello Spirito di cui la Chiesa ha bisogno. Solo la carità edifica. La conoscenza, anche quella teologica, giuridica ed ecclesiastica, spesso non fa che gonfiare e dividere. Se ci domandiamo perché siamo così ansiosi di conoscere e oggi così eccitate alla prospettiva dell'intelligenza artificiale e così poco invece preoccupati di amare, la risposta è semplice. È che la conoscenza si traduce in potere e invece l'amore in servizio. Lo stesso Henri de Lubacca ha scritto «Occorre che il mondo lo sappia. La rivelazione del Dio amore sconvolge tutto quello che esso aveva concepito della divinità». A tutt'oggi non abbiamo finito e non si finirà mai di trarre tutte le conseguenze da questa rivoluzione evangelica su Dio come amore. E in questa meditazione vorrei mostrare come, partendo dalla rivelazione di Dio come amore, si illuminano di luce nuova i principali misteri della nostra fede, la Trinità, l'incarnazione e la Passione di Cristo. E diventa meno difficile farli comprendere alla gente. Quando San Paolo definisce i ministri di Cristo come dispensatori dei misteri di Dio, intende questi misteri non si riferisce a dei riti e neppure in primo luogo ai sacramenti. Iniziamo dal mistero della Trinità. Perché noi cristiani crediamo che Dio è uno e trino? Mi sono trovato più di una volta a predicare la parola di Dio a cristiani che vivono in paesi a maggioranza islamica, nei quali tuttavia c'è una relativa tolleranza e possibilità di dialogo, come avviene negli Emirati Arabi. Sono persone per lo più immigrati, impiegati come mano d'opera. E se mi hanno chiesto a volte cosa rispondere alla domanda che viene loro rivolta nei luoghi di lavoro. E cioè, perché voi cristiani dite di essere monoteisti e non credete in un Dio unico e solo? Dico cosa ho consigliato loro di rispondere, perché è la spiegazione che dovremmo dare a noi stessi e a chi ci interroga sullo stesso problema. Noi crediamo in un Dio unettrino perché crediamo che Dio è amore. Ogni amore è amore di qualcuno o di qualcosa. Non si dà un amore a vuoto come non si dà una conoscenza che non sia conoscenza di qualcosa o di qualcuno. Ora, chi ama Dio per essere definito l'amore? L'universo? L'umanità? Ma allora è amore solo da qualche decina di miliardi di anni, da quando cioè esiste l'universo e il mondo e l'uomo. Prima di allora, chi amava Dio per essere l'amore? Dal momento che Dio non può cambiare e cominciare ad essere quello che prima non era. I pensatori greci concependo Dio soprattutto come pensiero potevano rispondere come fa Aristotele nella sua Metafisica Dio pensava a se stesso. Era puro pensiero. Pensiero di pensiero. Ma questo non è più possibile nel momento in cui si dice che Dio è amore. perché il puro amore di se stesso sarebbe puro egoismo o narcisismo. Ed ecco la risposta della rivelazione definita nel concilio di Nicea nel 325. Dio è amore da sempre ab eterno perché prima ancora che esistesse un oggetto fuori di sé da amare aveva in sé stesso il verbo il figlio unigenito che amava di un amore infinito che è lo Spirito Santo. Tutto questo non spiega come l'unità possa essere contemporaneamente Trinità che è un mistero inconoscibile perché avviene solo in Dio. Ci aiuta però a intuire perché in Dio l'unità deve essere anche comunione e pluralità. Dio è amore per questo è Trinità. Un Dio che fosse pura conoscenza o pura legge o potere assoluto non avrebbe bisogno di essere Trino. Questo anzi si complicherebbe le cose. Nessun triunfi rato e nessuna diarchia è durata molto nella storia. Anche i cristiani credono dunque crediamo dunque nell'unità di Dio e siamo monoteisti. Un'unità però non matematica o numerica ma d'amore e di comunione. Se c'è qualcosa che l'esperienza dell'annuncio dimostra essere ancora capace di aiutare gli uomini d'oggi se non a spiegare almeno a farsi un'idea della Trinità questo è proprio quello che fa perno sull'amore. Dio è atto puro e questo atto è un atto d'amore dal quale emergano o sbocciano simultaneamente ab eterno un amante un amato e l'amore che li unisce. Il mistero dei misteri a pensarci bene non è la Trinità ma capire cos'è in realtà l'amore. Essendo questo l'essenza stessa di Dio non ci sarà dato di capirlo appieno neppure nella vita eterna perché sarebbe ugualiare Dio comprendolo appieno. Ci sarà dato tuttavia qualcosa di meglio che comprenderlo e cioè possederlo e saziarcene eternamente. Non si può abbracciare l'oceano ma ci si può tuffare dentro. passiamo all'altro grande mistero da credere e da annunciare al mondo l'incarnazione del verbo. Alla luce della rivelazione di Dio come amore anch'esso vedremo acquista una nuova dimensione e qui domando perdono se in questa parte almeno chiedo uno sforzo di attenzione superiore a quello che bisognerebbe chiedere in una predica cioè in un discorso orale ma penso che valga la pena fare uno sforzo almeno una volta in vita se non facciamo qui dove viene fatto ripartiamo dalla famosa domanda di Sant'Anselmo perché Dio si è fatto uomo cur Deus uomo è nota la risposta è perché soltanto uno che fosse nello stesso tempo uomo e Dio poteva riscattarci dal peccato come uomo infatti e gli poteva rappresentare tutta l'umanità come Dio quello che faceva aveva un valore infinito proporzionato al debito che l'uomo aveva contratto con Dio peccando la risposta di Sant'Anselmo è perennemente valida ma non è l'unica e neppure la più soddisfacente nel credo noi professiamo che il figlio di Dio sia fatto carne per noi uomini e per la nostra salvezza ma non si limita la nostra salvezza alla sola remissione dei peccati tanto meno di un peccato in particolare il peccato originale resta spazio dunque per un approfondimento della fede ed è quello che cerca di fare il beato d'un d'un scoto Dio dice si è fatto uomo perché questo era il progetto divino originario anteriore alla stessa caduta che cioè il mondo creato per mezzo di Cristo e in vista di Lui trovasse in Lui nella pienezza dei tempi il suo coronamento e la sua ricapitolazione Dio scrive Scoto anzitutto ama se stesso poi vuole essere amato da qualcuno che lo ami in grado sommo fuori di se stesso perciò prevede l'unione con la natura che doveva amarlo in grado sommo la natura umana questo amante perfetto non poteva però essere una creatura che è finita ma solo il verbo eterno questi perciò cioè il verbo si sarebbe incarnato anche se nessuno avesse peccato il peccato di Adamo ha determinato il fatto non ha determinato il fatto stesso dell'incarnazione ma la sua modalità redentrice di riscatto all'inizio di tutto c'è ancora purtroppo in scoto come si vede un Dio da amare più che un Dio che ama è un residuo della visione filosofica del Dio motore immobile che può essere amato ma che non può amare Dio aveva scritto Aristotele muove il mondo in quanto è amato cioè in quanto è oggetto d'amore non in quanto ama in linea con la visione occidentale della Trinità scoto pone la natura divina non la persona del Padre all'inizio del discorso su Dio e la natura a differenza della persona non può essere un soggetto che ama in ciò i nostri fratelli ortodossi eredi dei padri greci hanno visto più giusto di noi latini su questo punto la scrittura ci chiama credo a fare oggi un passo avanti anche rispetto a scoto sempre consapevoli tuttavia che i nostri discorsi su Dio soprattutto su questi misteri non sono altro che dei labili segni tracciati con un dito sulla superficie dell'oceano Dio Padre decide l'incarnazione del Verbo non perché vuole avere fuori di sé qualcuno che lo ami in modo degno di sé ma perché vuole avere fuori di sé qualcuno da amare in modo degno di sé non per ricevere amore ma per effonderlo presentando Gesù al mondo nel battesimo e nella trasfigurazione il Padre Celeste dice questo è il figlio mio l'amato non dice l'amante con un piccolo sforzo solo il Padre nella Trinità e in tutto l'universo non ha bisogno di essere amato per esistere ha bisogno di amare questo è ciò che garantisce il ruolo del Padre come fonte e origine unica della Trinità mantenendo nello stesso tempo la perfetta ugualianza delle tre persone divine c'è all'origine di tutto la folgorante intuizione di Agostino e della scuola che si è sviluppata dopo di lui essa definisce il Padre come l'amante il Figlio come l'amato e lo Spirito Santo come l'amore che li unisce in ciò anche noi latini abbiamo qualcosa di essenziale e a mio parere indispensabile da offrire per una sintesi ecumenica e grazie a Dio una piena riconciliazione tra le due teologie non sembra più così lontana e difficile ciò che segnerebbe un passo avanti decisivo verso l'unione delle due chiese veniamo ora al terzo grande mistero la passione di Cristo che ci apprestiamo a celebrare a Pasqua vediamo come partendo dalla rivelazione di Dio come amore anch'esso si illumina di luce nuova dalle sue piaghe siete stati guariti con queste parole dette del servo di Yahweh la fede della Chiesa ha espresso il significato della morte di Cristo ma possono piaghe croce dolore che sono fatti negativi e come tali privazioni di bene possono produrre una realtà positiva qual è la salvezza di tutto il genere umano la verità è che noi non siamo stati salvati dal dolore di Cristo ma dal suo amore più precisamente dall'amore che si esprime nel sacrificio di se stesso dall'amore crocifisso ad Abbelardo questo famoso teologo razionalista del Medioevo che già a suo tempo trovava ripugnante l'idea di un padre che si compiace della morte del figlio rispondeva non fu la sua morte che gli piacque ma la sua volontà di morire spontaneamente per noi non mors sed voluntas placuit sponte morientis il dolore di Cristo conserva tutto il suo valore e la Chiesa non smetterà mai di meditare su di essa non però come causa per se stesso di salvezza ma come segno e dimostrazione dell'amore Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi questo è Romani 5 e 8 la morte è il segno e l'amore è il significato l'evangelista Giovanni pone come una chiave di lettura all'inizio del racconto della passione avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine questo toglie alla passione di Cristo una connotazione che ha sempre lasciato perplessi e insoddisfatti l'idea cioè di un prezzo o di un riscatto da pagare a Dio o peggio alcune volte al demonio come un sacrificio con cui placare l'ira divina in realtà è piuttosto Dio che ha fatto il grande sacrificio di darci suo figlio di non risparmiarselo come Abramo non si risparmiò il suo figlio Isacco Dio dunque è più il soggetto che il destinatario del sacrificio della croce adesso per finire dobbiamo vedere che cosa può cambiare nella nostra vita di spirituale di preghiera queste verità che abbiamo contemplato Trinità l'Incarnazione e la Passione di Cristo e qui Nenarabili Padri e Fratelli e Sorelle ci aspetta la sorpresa che non manca mai quando si cerca di approfondire i misteri cristiani e la sorpresa è scoprire che grazie alla nostra incorporazione a Cristo anche noi possiamo amare Dio con un amore infinito degno di Lui San Paolo scrive che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori ora l'amore che è stato riversato nei noi è quello stesso con cui il Padre da sempre ama il Figlio non un amore diverso io in loro dice Gesù e tu in me parla il Padre perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro notare l'amore con cui mi hai amato non uno diverso è un traboccare dell'amore divino dalla Trinità a noi Dio comunica l'anima scrive San Giovanni della Croce lo stesso amore che comunica il Figlio anche se ciò non avviene per natura come nel caso del Figlio ma per grazia la conseguenza è che noi possiamo amare il Padre con l'amore con cui lo ama il Figlio e possiamo amare Gesù con l'amore con cui lo ama il Padre tutto grazie allo Spirito Santo che è quello stesso amore cosa diamo allora a Dio di nostro quando gli diciamo ti amo nient'altro che l'amore che riceviamo da Lui nulla assolutamente da parte nostra di nuovo è come un rimbalzare del suo stesso amore verso di Lui come l'eco che rimanda alla sorgente il suono magari anche mutilato no non in questo caso grazie a Dio l'eco del suo amore ritorna a Dio dalla cavità del nostro cuore ma con una novità che per Dio è tutto il profumo della nostra libertà e della nostra gratitudine di figli tutto questo si realizza in modo di sembrare nell'Eucarestia che cosa che cosa facciamo nell'Eucarestia se non offrire al Padre come il nostro sacrificio quello che in realtà il Padre stesso ci ha donato e cioè il suo figlio noi possiamo dunque dire a Dio Padre ti amo con l'amore con cui ti ama il tuo figlio Gesù e dire a Gesù Gesù ti amo con l'amore con cui ti ama il Padre Celeste e sapere con certezza che non è una pia illusione ogni volta che pregando cerco di farlo anch'io nel mio piccolo mi torna in mente l'episodio di Giacobbe che si presenta al Padre Isacco per ricevere la benedizione spacciandosi per il figlio fratello maggiore e cerco di immaginare quello che potrebbe dire tra sé Dio Padre in quel momento veramente la voce non è proprio quella di mio figlio primogenito ma le mani i piedi e tutto il corpo sono le stesse che mio figlio ha preso sulla terra e ha portato quassù nel cielo e sono sicuro che mi benedice come Isacco benedisse Giacobbe e benedice tutti voi inerabili padri fratelli e sorelle è lo splendore della nostra fede cristiana speriamo di essere in grado di trasmetterne qualche frammento qualche briciola agli uomini e alle donne del nostro tempo che sono assetati d'amore ma ne ignorano la sorgente Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo Nome del Padre e allo Spirito Santo